Musica Ed apriamo la nostra finestra sulla medicina con salute sostenibile, l'economia della salute, il nostro osservatorio sui costi, i bisogni, la qualità del sistema sanitario e le notizie, gli studi e le ricerche e anche tutte le curiosità della medicina con le eccellenze sanitarie del territorio. Le testimonianze dei loro protagonisti. Oggi al centro della nostra speculazione scientifica è l'occhio di cui ci siamo già occupati tempo fa, molti che ci seguono lo ricorderanno, con il nostro speciale, l'occhio dei suoi misteri, lo speciale d'Aravello con i più grandi chirurghi oculisti ed oculoplasti del pianeta. Un meeting mondiale organizzato dagli oculisti della clinica Salus di Battivaglia, Elio Trotta, Luigi Colangelo e Lino Guarracino che è qui con noi in studio, ospite di salute sostenibile, di trend e di telecolore. Per parlare di chirurgia refrattiva che oggi dopo la miopia corregge anche l'ipermetropia e l'astigmatismo. Diciamo subito che la chirurgia refrattiva si chiama così perché corregge sulla cornea o sul cristallino i vizi refrattivi dovuti a difetti di focalizzazione delle immagini sulla retina. Il miope ricordiamo è chi non mette a fuoco gli oggetti da lontano, l'ipermetrope è chi non mette a fuoco gli oggetti vicini ma riesce a farlo con quelli lontani, l'astigmatico è chi invece ha una visione offuscata a tutte le distanze e può essere anche contemporaneamente un miope o un astigmatico. Tutti questi difetti, corregibili lo sappiamo con gli occhiali, possono essere invece risolti oggi drasticamente con un intervento chirurgico di routine. Dottor Garacino, come avviene questo intervento di chirurgia refrattiva? È vero che rispetto a quello sulla miopia, quello sulla ipermetropia e di astigmatismo è un po' più complesso? Innanzitutto bisogna dire che per quanto concerne la miopia l'intervento tecnicamente è più semplice nel senso che si tratta di focalizzare i raggi della cornea sulla retina perché la cornea ha un potere riflettivo maggiore rispetto alla lunghezza del bulbo, vale a dire che è più curva rispetto alla lunghezza dell'occhio stesso. Questo diciamo tecnicamente è stato risolto andando a modificare la superficie della cornea e quindi asportando una micro frazione di tessuto che fa sì che fa divergere i raggi luminosi di quel tanto da portarli a fuoco sulla retina. Al contrario per quanto riguarda invece l'astigmatismo e l'ipermetropia i problemi diventano meno facili da affrontare perché al contrario dell'amiopia l'ipermetropia è un difetto nel quale la cornea è più piatta rispetto alla lunghezza del bulbo cioè vale a dire che i raggi luminosi vengono messi a fuoco dietro alla retina come se l'occhio fosse più corto rispetto al potere refrattivo della cornea. Questo significa che nel caso dell'amiopia asportare una micro frazione di tessuto qui invece bisogna incurvare la cornea. Con i vecchi laser questo procedimento era complesso e non sempre dava risultati ottimali. Con la nuova generazione di laser si è riusciti invece ad ottenere dei risultati veramente molto soddisfacenti per cui praticamente sia per quanto riguarda l'ipermetropia che per quanto riguarda l'astigmatismo che invece è un difetto nel quale i meridiani della cornea non hanno tutti e due lo stesso potere refrattivo vale a dire uno mette a fuoco in un punto, l'altro, il verticale mette a fuoco in un punto, l'orizzontale in un altro punto per cui ad un punto oggetto non corrisponde un punto immagine ma due punti immagini o più punti immagini. Anche in questo caso si riesce con la nuova tecnologia soddisfacentemente a risolvere il problema. La presbiopia è un difetto della vista non dovuto a problemi di refrazione delle immagini sulla retina ma ad una vera e propria perdita dell'apparato accomodativo con l'età. Il cristallino perde la sua elasticità generando problemi soprattutto per la messa a fuoco da vicino. Dottor Guaracino, siamo di fronte a un problema certamente diverso per l'occhio ma a che punto è la chirurgia rispetto a questo difetto che interessa un miliardo e 700 milioni di persone insomma buona parte del pianeta? Purtroppo diciamo attualmente ancora non esistono delle tecniche per risolvere questo che non è un problema soltanto di refrazione oculare ma è anche un problema di carattere neurofisiologico ed è tutto legato alla incapacità di mettere a fuoco e di poter modulare l'accomodazione del cristallino come quando si è più giovani perché i processi sono molteplici comunque in questo campo entrano in gioco anche dei meccanismi di sclerotizzazione proprio del cristallino stesso. bisogna ancora attendere per questa cosa per cui ancora non ci sono dei risultati standardizzati e univoci come sono invece per l'ipermetropia, l'astigmatismo e soprattutto per la miopia. Alla Salus di Battipaglia fate migliaia di interventi all'anno mi pare avete addirittura un record nazionale qual è la vostra classifica? Quali sono gli interventi più richiesti che fate? Allora il primo posto è ovviamente la cataratta anche perché con l'invecciamento della popolazione c'è una richiesta sempre crescente di questo tipo di chirurgia noi effettuiamo la tecnica della faco emulsificazione e effettuiamo oltre 2000 interventi all'anno di cataratta anche se siamo un poco frenati da limiti che vengono messi dalle strutture regionali al numero di interventi da effettuare dopodiché si effettuano anche interventi sulla retina gli stacchi di retina, vitrectomie e trattamenti per le mancolopatie e ovviamente la chirurgia refrattiva di cui dicevamo poc'anzi.